E a noi, appena finisce l'anno, probabilmente si verranno riattivate nuovamente queste cartelle esattoriali e quindi saremo probabilmente nella stessa situazione di Emanuele Avalini, quindi situazione drammatica decisamente. La morte del padre di Caterina Benveniù nel 2002 è stata scritta all'impianto di una valvola cardiaca difettosa e una delle tre vittime di una vicenda per la quale si è celebrato un processo. Coinvolti sono in totale una trentina di pazienti, la maggior parte salvati con il reimpianto di protesi differenti. Con l'azzeramento della sentenza di risarcimento tutti si trovano ora a dover rifondere le somme inizialmente ottenute. Ad Albignasego la madre di Caterina aveva ricevuto un conto da 100.000 euro. La loro cartella esattoriale è congelata fino a fine anno, ma ad un'altra vedova è già scattato il primo pignoramento di un quinto dello stipendio. In molti avranno enormi difficoltà a portare a termine i risarcimenti. Famiglie che lanciano un appello alla regione perché si decidano i criteri di erogazione dei 300.000 euro inseriti nel bilancio 2018, ma non è l'unico appello. Chiediamo a questo punto al governo o allo Stato che qualche forma di condono rispetto a queste cartelle esattoriali, che vengono stralciate, che vengono annullate, perché non è giusto che noi, in quanto già vittime di questa situazione di mala sanità, che non abbiamo creato noi, ma ci siamo costretti a subirla, dobbiamo addirittura arrivare a pagare e a restituire dei soldi che in realtà ci spezzano. Grazie. Grazie.